Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi oggi voglio parlarvi di un argomento molto attuale nel mondo dell'SMR e cioè il rapporto tra SMR e televisione e SMR e mondo fuori da YouTube è un argomento di cui non ho voluto parlarvi tanto però diciamo che mi è sembrato proprio il momento giusto adesso voi state vedendo questo video lunedì 11 e per chi non lo sapesse sabato 9 sono diciamo che è stato un po' un giorno importante per l'SMR infatti l'Ori SMR è stato un concorrente a Tusiche Vales e faccio dei complimenti io sono stata ospite a Radio DJ con Daniele Bossari e Federica Cazzuola sono stati gentilissimi e tutto ciò solo sabato 9 e poi in generale l'SMR comunque sta portando un pochino il mondo della televisione ne stanno un po' parlando, stanno facendo servizi ecc in questo video voglio parlare bene un po', voglio fare un po' il riassunto di quello che mi ricordo di ciò che abbiamo visto in tv, nei giornali ecc e anche voglio dirvi cosa ne penso, quali sono un po' le mie paure, i miei timori e dirvi un po' anche un minimo di cose per quello che vi posso dire insomma e poi voglio infine sapere nei commenti cosa ne pensate voi per aprire un pochino un confronto di idee provo anche un nuovo trigger oggi, questo è un giotto vecchiotto, no? volevo provare, volevo provare il gelatino squishy però poi ho pensato dobbiamo cambiare leggermente tra l'altro per oggi era e ne proviamo un roleplay che sono preparata tantissimo tempo e probabilmente uscirò venerdì e l'uno di prossimo che dovete guardare anche solo per tutto l'impegno che ci ho messo allora intanto appunto, sì, abbiamo avuto tu sei che vale sabato e io la DJ sabato in radio ne ho parlato diverse volte in radio di geni ne ho parlato diverse volte più o meno bene diciamo che mi ha fatto piacere essere ospite anche per dire la mia per confrontarci insomma perché parlasse qualcuno che un minimo ne sa e poi in radio ne ho parlato anche, non so, in radio 105 ma in tante veramente radio anche molto importanti poi in televisione televisione recentemente anche strisa notizia ha fatto un servizio che devo confessarvi ho avuto il coraggio di vedere solo oggi questo perché ogni volta mi crea molta agitazione vedere queste cose perché ho sempre un po' di timore per cosa diranno vi confesso che ero accettata io da parola ospite insomma concorrente cioè concorrente, un ignota ecco e poi Sarah J aveva partecipato a un programma di Rai 1 alla domenica non mi ricordo bene come si chiama però sì l'avevano chiamata a fare anche un'esibizione una dimostrazione ecco e poi su Rai 2 4 erano fatesi e l'avevano chiamata per fare anche lì una dimostrazione e si parlava di smr in quel programma in cui c'è il giudice non mi ricordo come si chiama però è famosissimo forum su forum quello con il giudice due persone che litigano su qualcosa eccetera e avevano fatto diciamo gli attori avevano fatto un teatrino riguardo all'smr e poi si aveva detto la sua aveva fatto una dimostrazione non penso fosse non so se fosse diretta no comunque non era diretta però insomma anche lì un po' di emozione c'è era proprio lei in primo piano era veramente e poi io e Federica eravamo state intervistate da Nemo e ha cito un servizio su Nemo pessima esperienza bruttissima è stata secondo me la prima apparizione dell'smr in televisione e cioè entrambe cioè il servizio non era non era per niente bello onestamente e poi Kiki e Feiri avevano anche registrato diciamo una specie di documentario sull'influencer che ero cito su Rai 1 sulla Rai comunque mi sembra e però la mia le avevano escluse cioè non avevano visto il loro servizio in tv quindi tipo le avevano escluse si vede che hanno trovato qualcun altro non lo so però le avevano girato tutto vabbè poi come testate giornalistiche onestamente mi ricordo solo quelle in cui hanno intervistato me perché non ci sto troppo dietro in realtà il Corriere della Sera mi aveva fatto una bellissima veramente bellissima intervista che la cita sia online che che sul giornale cartaceo mi aveva fatto veramente tanto piacere e mi aveva intervistato anche su sette che è settimanale del Corriere della Sera è uscita anche ad esempio una video intervista su la Repubblica in occasione del del pop-up youtube pop-up space di Milano anche quella molto carina è uscita un'intervista su Two Style su Rolling Stones e anche altri ragazzi però onestamente come anche il resto del Carlino sicuramente e ora mi vengono in mente queste però comunque capite che si sta tanto diffondendo anche Italia 1 aveva fatto un servizio sull'SMR non chiedendo permessi a nessuno però che per dirvi comunque c'è una grossa portata ne stanno parlando sempre di più allora devo dirvi la verità io ho di occasioni di andare in televisione ne ho avute tante di tutte di tutti questi programmi che vi ho detto solo ciao Darby non ero stata chiamata ammetto che proprio non mi avevano anche a di non mi avevano assolutamente contattata considerata niente del resto tutti i programmi che vi ho detto sono io che ho rifiutato e ve lo dico non per dirarmelo cosa ma per farvi capire un ottimo la mia posizione al riguardo io però l'ho aggiuntato solo i soliti gnoti nemo sarà che io sono parita con nemo che è stata talmente un'esperienza brutta che mi ha fatto un attimo allontanare dalla televisione e da tutto questo mondo a stare gnoti è stata invece un'esperienza molto carina molto e molto gentili e poi diversa si ogni tanto è carina guarda queste cose e ripeto la dice mi sono trovata benissimo ci sono state veramente tantissime occasioni cioè se io volessi diventare un personaggio televisivo penso ci riuscirei abbastanza nel senso comunque la televisione si sta aprendo molto in modo di youtube per avvicinarsi ai giovani perché siano magnani mia cosa è chiaro ma e poi tra l'altro alcune cose poi non vanno non vanno in porto però mi hanno fatto tante proposte appunto di partecipare ad altri programmi e io non me lo sono mai sentito onestamente tra l'altro adesso ve lo dico proprio così c'è in mano anche un'operta lavorativa che è pieno di aver rifiutato però ci sto un po' pensando sopra e vedremo insomma però e sono sempre un po' restia riguardo alla televisione in particolare perché perché io vengo dal mondo di youtube e su youtube ragazzi io ho il controllo cioè io ho il controllo del mio canale io ho il controllo di ciò che dico io ho il controllo dei commenti cioè io su un commento non mi piace lo posso benissimo cancellare e in televisione invece onestamente loro ti portano dove vogliono loro e soprattutto un po' come tutti i personaggi di youtube è un po' uno sfruttamento nel senso che sfruttano la tua fame tra l'altro non crediate che veniamo pagati per fare nulla di tutto ciò minimamente cioè proprio no giusto per essere chiari e quindi sì in televisione diciamo che non hai il controllo loro fanno un po' quello che vogliono ti dicono l'attenzione verso ciò che vogliono magari tu gli dici non vorrei che diceste questa cosa invece la dicono mi ricordo il caso di Sara che lei non vorreva che dicesse che dicesse lo suo cognome giustamente e l'hanno detto e poi lei non ha neanche potuto dire chi faceva video su youtube capite quindi c'è magari il pubblico che era interessato non esperto di youtube non sapeva neanche dove trovare questi video non ha potuto dire il nome non ha potuto dire niente del suo canale e capite che è molto brutto secondo me anche lì non si sono comportati bene e quindi io sempre qui lì veramente cambia da programma a programma quindi lì è sempre un po' un ternallotto quindi in sostanza io sono sempre un po' diffidenti su queste cose e Lucy Cavallus non sapeva esattamente quando sarebbe stato eccetera avevo molta paura riguardo e diciamo che comunque ci ha fatto una discreta figura Lori diciamo che ce l'ho stato molto bravo molto carino penso che la cosa delle coperte dei giucci e degli orsacchiotti è stata assolutamente diretta dalla regia non immaginate che sia una sua una sua trovata minimamente secondo me lui avrebbe evitato molto volentieri però capite che già già ci giocano un po' sopra hai capito perché la televisione deve fare questo effetto come un po' come un po' anche youtube diciamo ce l'ho bene e è sempre così quando si tratta di attirare gli spettatori tipo ho visto Maria di Filippi che non si è comprata benissimo neanche mezzo insultato a un certo punto è stata una parola che non voglio dire qui però è stata troppo carina Sabrina per lì è stata carinissima dolcissima e tra l'altro lì è stato fortunato lui a trovare qualcuno nella giuria che conoscesse questi video e che ne parlasse bene perché è importante perché quando un'intervista è fatta da una persona che non ci capisce niente e quindi è lì solo per giudicare per magari vedere e vedere solo le cose particolari di questo mondo è molto più difficile far capire invece quando c'è qualcuno che apprezza e che sta dalla tua parte rende le cose molto più semplici davvero o poi magari non è vero semplicemente lei gli hanno detto guarda tu devi fare questo personaggio ti spieghiamo cosa sono a cui piacciono e devi difenderlo eccetera magari così è perché questo non lo so però potesse che sia anche così tra l'altro però è stato molto carino alla fine l'ho passato non seguo quel programma non so se quindi riapparirai in un'altra puntata andrà avanti onestamente non ho idea comunque mi fa piacere per lui e soprattutto ho avuto veramente il coraggio di farlo perché io no cioè ve lo dico onestamente io ho rifiutato tante cose tante tante ogni volta che mi chiedono di fare cioè ogni volta che mi dicono guarda ti invitiamo anche per fare questa esibizione io tendo sempre a non accettare perché? perché l'SMR è fatto per essere ascoltato con le cuffie per essere ascoltato o poi magari domani mi vedrete in tv a fare una dimostrazione perché per la mia paura è sempre che sia frainteso che non sia capito perché non è il luogo la televisione in cui farlo ma è il YouTube è il Web e giustamente anche tutti che vale se l'hanno spiegato che andrebbero ascoltati con le cuffie eccetera quindi insomma dipende però ci vuole comunque tanto coraggio ma perché mi vergogni c'è scritto anche un libro ragazzi però perché in televisione non controlli poi il giudizio degli altri e c'è un pubblico molto ampio un pubblico che non è il tuo pubblico e è tutta un'altra storia quindi la mia paura è sempre quella che venga fra intesa che venga tra l'altro perché mi è sempre sottolineato l'aspetto se in un servizio c'è sempre la parte in cui qualcuno lecche i microfoni anche se in Italia io praticamente non la mi sto mai fare tra l'altro però c'è sempre quella parte e c'è sempre la parte diciamo più spinta dell'smr che ad esempio nel mio caso non c'è quindi è sempre un po' così capite si spinge sempre più da quel lato al posto che dall'altro e quindi io sono molto 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 restia probabilmente la mia paura però è anche di starmi cercando forse molte opportunità lavorative anche da un certo punto di vista perché dall'altra parte magari avendo più visibilità potrai in futuro avere delle opportunità lavorative e diciamo è un po' una posizione difficile da 100 punti di vista non so se riuscite un minimo a capire però io ci tengo tanto l'smr voglio sempre che sia preso con serietà voglio dire su una cosa sul servizio di striscia che tra l'altro pensavo fosse molto peggio e fatto molto bene a parte quella cosa che la definisce una non lo dico perché dopo youtube mi toglie l'umidizzazione sicuro e che però lì cosa da quando se lo sono inventati loro oppure che non è dato alle persone cardiopatiche con epilessia o con problemi psichici non è vero cioè alcuni psicologi lo consigliano come diciamo terapia coaggivante non ovviamente la singola terapia però lo consigliano quindi è un po' una cavolata e anche lì insomma hanno poi penalizzato noi perché molti ragazzi mi sono venuti a scrivere i miei genitori sono molto preoccupati perché hanno detto che è questo perché hanno detto che non va bene per io sono lì ok per quanto il servizio fosse fatto abbastanza bene striscia non è nota per essere non è nota per essere un programma di divulgazione scientifica quindi insomma guardate sempre un po' a chi ascoltate che cosa state vedendo e chi lo sta dicendo comunque e l'SMR fondamentalmente sto raggiungendo comunque degli importanti traguardi appunto io ho pubblicato un libro per chi non lo sapesse il potere di un sussurro la prima guida italiana l'SMR per chi non lo sapesse ancora vediamo video che appunto tratta di SMR a 360 gradi dal mio punto di vista di creatrice di contenuti ovviamente e ne sono tanto vera del mio bimbo per finire ditemi ditemi voi cosa ne pensate ditemi cosa che effetto vi fa anche che l'SMR sia un po' sfruttato dalla televisione sotto certi punti di vista e l'altro è sfruttato molto anche nel marketing non so se avete visto la la famosa nuotatrice che ha fatto la pubblicità SMR per una nota compagna di shampoo tra l'altro per me è venuta malissimo quella pubblicità non perché fosse fatta male in sé ma perché era proprio l'odio che faceva schifo cioè si vede che non c'era nessuno lì in mezzo che sapeva cosa stava facendo non lo so mi ha dato un po' l'idea un po' questa idea chiuso parentesi io vorrei tanto sapere i vostri i vostri parrieri vorrei tanto che ci fosse del confronto nei commenti davvero perché non ho mai prodotto questo questo contenuto sul canale questo questo dibattito ed è forse il primo video così mio più o meno quindi mi piacerebbe davvero sapere la vostra opinione anche probabilmente io sono particolarmente paranoica su queste cose sono fatte così non lo so ci penso veramente mille volte prima di fare una cosa prima di accettare una cosa e fidatevi comunque su tutte quelle che avete visto in televisione che vi ho detto ce ne sono altre tante che non sono andate in porto per dirvi mi avevano anche contattata per fare un provino per un reality è un reality nuovo non ho ne idea neanche di quale fosse alla fine però per dirvi che ci sono veramente tante possibilità di diventare un personaggio televisivo siete però contro io vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui e penso proprio sia giunto l'ora di di passare a passare bruci e curare e una buona 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 buon nuit buon nuit buon nuit good night buonanotte pasticcini buonanotte pasticcini buonanotte buonanotte con diretti una costa ripiena di vella un bacione calispera buonanotte 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 na buonanotte buonanotte Grazie a tutti.